Negli anni ha assunto una certa importanza nel panorama culturale nazionale il premio di poesia dedicato a Romeo Lesti, il medico di Frosolone scomparso prematuramente. Le opere, tante, arrivano da tutta Italia e per la giuria scegliere i lavori migliori non è semplice. Ma questa non è l'unica iniziativa portata avanti dall'Associazione Culturale e gli Amici di Romeo. I soci in questi anni stanno facendo grandi cose sul fronte della solidarietà. Aiutare i più bisognosi. Parliamo del terzo mondo. Siccome dopo la morte di un nostro amico e compaesano, Romeo Lesti, dottore all'ospedale di Venafro, abbiamo costituito questa società e portiamo avanti un programma di aiuti verso il Cameron. Abbiamo realizzato già un dispensario giù a Mamfe. Quest'anno abbiamo montato un palco fotovoltaico giù a Bessalì nel profondo dell'Africa e ogni anno ci prefiggiamo qualcosa da realizzare. Quest'anno, ad esempio, serve un'incubatrice richiestaci dall'ospedale perché la morte dei bimbi è eccessiva e uno strumento per fare le analisi immediate del sangue. Cercheremo quest'anno di concretizzare il premio di poesia con l'aiuto nel costruire queste due cose fondamentali per il Cameron. Tra gli ospiti della serata dedicata alla poesia, anche il giornalista molisano Domenico Iannacone. Da qualche mese sul Rai 3 ha debuttato alla conduzione con la trasmissione ai Dieci Comandamenti. Qui in Molise trova sempre terreno fertile per le sue inchieste. Sì, questa è una storia che avevo un trattato per i Dieci Comandamenti per la serie di quest'anno, ma c'è anche una coincidenza che io sono per metà di Frosolone. La storia la vengo a proporre qui perché è l'habitat in cui ho passato la mia infanzia, in questi luoghi. Mia madre era di Frosolone e quindi torno sempre volentieri. È stata un'occasione anche per rivedere tanti amici. Romeo era un mio amico, era amico di tante persone qui di Frosolone. Quindi per un'opera così benefica è importante che ci si ritrovi.